Quando ero molto giovane, mi sedevo davanti alla mia mappa del mondo, immaginandomi in un paese ideale, da sola e in pace. Oggi, se potessi ricreare il mondo, se potessi creare un mondo nuovo, ecco quello che voi vedreste. Vedreste Emma, Claire, Howard e me, tutti insieme, fuori dalle regole, che formiamo un cerchio perfetto. Non mi va l'insalata. Devi mangiarne almeno due foglie. Mettiti il tovagliolo sulle gambe. Anche tu, Claire. Hai fame, orsacchiotto, Claire? Sì, tanta fame. No, non ti serve il coltello. Dai due foglie di insalata a Claire. Sì. 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 Sì.